La Regione intervenga per garantire supporto alle imprese che necessitano di un piano di programmazione definito e specifico per il settore, perseguendo obiettivi utili alla realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse comune e adoperandosi per la tutela di operatori professionali altamente specializzati. E' questa la richiesta che il Consiglio regionale ha rivolto alla Giunta di Palazzo Donini, approvando all'unanimità la mozione firmata dai consiglieri Gianfranco Chiaccheroni, Partito Democratico, e Massimo Mantovani, nuovo centrodestra, che chiede alla Giunta regionale di mettere in atto iniziative per il rilancio della ceramica artistica. Illustrando l'atto, Gianfranco Chiaccheroni ha rilevato che la sfavorevole congiuntura economica che ha colpito il tessuto produttivo della nostra Regione ha segnato in modo particolare la ceramica artistica, una situazione a cui i comuni di De Ruta e Gualdo Tadino, le istituzioni regionali e comunitarie, le associazioni categorie e il mondo delle imprese artigiane hanno cercato di reagire con il coordinamento dell'assessorato regionale allo sviluppo economico. Prima del voto sono intervenuti il capogruppo UDC, Sandra Monacelli, sottolineando che la tradizione artistica è una realtà che viene dal passato e sta vivendo una crisi nella crisi, e l'assessore regionale allo sviluppo economico, Vincenzo Riommi, secondo cui in Umbria la ceramica artistica è di alta qualità, ma è necessario combattere la contraffazione e puntare sui marchi.